Questa è la torre di Chia, detta anche torre di Pasolini, perché negli ultimi anni della sua vita la ristrutturò e la scelse come dimora, ispiratrice diciamo. In realtà ci siamo già stati l'altro ieri, purtroppo il tempo non era così come oggi. Continua a piovigginare e adesso vediamo un po' che cosa possiamo vedere qui attorno. Siamo a Bassano. Questa è la torre di Chia, le cascate sono lì, però purtroppo piove, è tutto molto scivoloso. Ce l'abbiamo fatta. In questo luogo Pasolini ha girato una scena nel film Il Vangelo secondo Matteo, la scena del battesimo. Il punto non è la pioggia, il punto è che non siamo attrezzati. Meteo nuvoloso pioviggino, pensavo che era una cosa tipo di un'ora, due ore. Sta piovendo da quattro ore. Ecco qua, bravissima. Sta piovendo sempre più forte, però abbiamo ripreso il sentiero per la macchina. Mi sa che o meglio tornarci a fare una doccia. Continua a piovere e abbiamo deciso di andare a Nanni. Uno dei tanti luoghi dove ha dormito Garibaldi. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa è Nanni, si è fatta una certa, quindi andiamo a mangiare. Alla fine siamo tornati a Chia per mangiare, in modo che siamo tornati ancora con un po' di luce, un filo di luce. ci siamo appena svegliati. Fortunatamente ha smesso di piovere e adesso credo che andremo a Civita di Bagnoreggio e poi forse scendiamo a fare una visita ai laghi e stanotte voi dormiamo di nuovo qui. Grazie a tutti. Grazie.